Allora, cominciamo una rubrica su questo canale che chiameremo il Maniaco del Fumetto. Cercheremo di fare un'analisi del fumetto sia qui in Italia che nel mondo a 360 gradi. Tutto quello che è stato fatto e tutto quello che viene fatto adesso e tutto quello che si fa. Bene, numero uno. Alan Ford, questi 15 numeri di Alan Ford colore tra il 79 e l'80. Il gruppo TNT, il dente carriato. Operazione Frankenstein. La Casa dei Fantasmi. Date, date, date. Alex Barry non c'è più. Una gita sanguerreta. L'albero di Natale. The Symphony. Formula. Il numero uno. La terza storia di un giovane ricco. Golf. Uno, due, tre, quattro. È il colpo di fulmine. Come sappiamo, l'accordo era di Luciano Secchi, inerte Max Bunker. Non se la passava bene e infatti, probabilmente questo di Alan Ford colore è stato solo un presagio di quello che sarebbe successo di lì a poco, cioè la chiusura dell'accordo. Alla prossima. Grazie.